Siamo qui per portare avanti un esempio di buon governo che è appunto il governo di Luca Zaya. Il Veneto è una regione virtuosa, specialmente in termini di sanità, a differenza dell'Emilia Romagna. Leggevo sulla cronaca locale proprio di Bologna di qualche settimana fa che le persone anziane fanno le corriere per andare a Monselice, a Padova, perché i tempi di attesa sulle visite specialistiche a Bologna in media sono di 85 giorni, in Veneto a Monselice dove c'è un accordo con il privato, dove c'è una strategia che riesce a creare dei virtuosismi anche sui tempi di attesa, sono 10 i giorni, che la dice Luca, così come anche i ticket sanitari emiliani sono molto più alti del ticket sanitario Veneto. Questo credo che sia un buon esempio, un esempio che vogliamo anche noi portare avanti, vogliamo rompere il dogma ideologico e politico di una sinistra che sul privato non vuole convenzionarsi perché soltanto il pubblico, secondo la sinistra emiliana, può risolvere i problemi della sanità. Credo che non sia così, credo che si possano ottimizzare le risorse e si possa creare un servizio ottimo per la qualità dei cittadini.